Ciao a tutti! Benvenuti sul canale YouTube di Prestiti.online. L'obiettivo di oggi è spiegarti cosa serve per richiedere un prestito personale online veloce. Un prestito personale ti consente di ottenere una somma da utilizzare liberamente, senza dover giustificare la spesa all'istituto di credito. Che tu abbia bisogno di finanziare l'acquisto di una nuova auto, una ristrutturazione o le spese universitarie, ecco cosa devi sapere per ottenere il prestito più adatto alle tue esigenze. Cosa serve per richiedere un prestito personale? Ottenere un prestito personale non è un processo complesso, ma ci sono alcuni requisiti che devono essere soddisfatti. In generale, gli istituti di credito e le società finanziarie richiedono tre elementi essenziali, l'età del richiedente, 18-70 anni, un reddito dimostrabile, circa 750-800 euro al mese, e la titolarità di un conto corrente bancario per ricevere il denaro in prestito. Scopri come scegliere il miglior finanziamento. Requisiti di età, per poter richiedere un prestito, il richiedente deve avere almeno 18 anni e non più di 70 anni. Tuttavia, alcune banche e finanziarie offrono soluzioni di finanziamento per persone over 70. Reddito dimostrabile, è fondamentale avere un reddito regolare e dimostrabile per ottenere un prestito. I requisiti specifici variano in base al tipo di lavoro del richiedente e all'importo del prestito richiesto. In linea di massima, si considera un reddito minimo di sussistenza di circa 750-800 euro al mese. Questa somma deve rimanere a disposizione del beneficiario del prestito, al netto delle rate per eventuali altri finanziamenti già in corso. Conto corrente bancario, è necessario avere un conto corrente bancario attivo per richiedere un prestito. Questo serve per ricevere il denaro e per addebitare le rate del prestito. Documenti e requisiti per ottenere un prestito. Requisiti per ottenere un prestito. I requisiti fondamentali includono un'età compresa tra 18 e 70 anni, un reddito dimostrabile e la titolarità di un conto corrente bancario. I documenti per comprovare il reddito variano in base alla situazione lavorativa. I dipendenti possono presentare le ultime buste paga, i liberi professionisti il modello unico e 24F, mentre i pensionati possono usare gli ultimi cedolini pensionistici e il modello Obis o Q. Inoltre, è essenziale disporre di un reddito dimostrabile e essere titolare di un conto corrente bancario. Documenti necessari a seconda della situazione lavorativa. A seconda della tua situazione lavorativa, potrebbero essere richiesti diversi documenti per comprovare il tuo reddito. Se sei un dipendente, le ultime buste paga sono generalmente sufficienti per dimostrare il reddito. Se sei un libero professionista, puoi presentare il modello unico e un modello 24F come prova del reddito. Infine, se sei un pensionato, gli ultimi due cedolini pensionistici e il modello Obis o Q sono documenti validi per comprovare il reddito. Ricorda che ogni istituto di credito ha i propri criteri per valutare le richieste di prestito, quindi è importante confrontare diverse offerte e leggere attentamente i termini e le condizioni. Prestiti personali in Italia. Quali sono i diversi tipi di prestito personale? Come valutare un prestito? Quando cerchi un prestito, tieni d'occhio due valori essenziali, il TAN, tasso annuale nominale, e il TAEG, tasso annuale effettivo globale. Il TAEG, in particolare, ti fornisce una visione completa del costo del prestito, includendo eventuali oneri accessori. Utilizza un comparatore di prestiti per confrontare diverse offerte e trovare quella più conveniente per te. Scopri anche qual è un buon TAEG oggi. Tassi e spese. Analizza sia il TAN, tasso annuo nominale, che le spese accessorie come spese di istruttoria, gestione e penali. Usa il TAEG per confrontare le offerte. Un prestito con TAN al 5% e TAEG al 6,5% potrebbe essere conveniente. Confronto tra prestiti. Confronta i tassi di interesse applicati a diversi prestiti simili per avere una visione completa delle opzioni disponibili. Valutazione della rata. Assicurati che la rata mensile sia sostenibile. Come regola generale, la rata non dovrebbe superare il 30% del reddito dimostrabile. Se hai un reddito di 1500€, la rata massima consigliata è di 450€ ma il nostro consiglio è di fare bene i conti prima di inoltrare la richiesta. Se desideri sapere quali sono i migliori prestiti veloci, scopri i nostri ultimi video e short su YouTube. Conclusione del video. Se hai trovato questo video utile, ti preghiamo di lasciare un mi piace e di iscriverti al nostro canale, per ricevere ulteriori contenuti utili. E se conosci qualcuno che potrebbe beneficiare di queste informazioni, condividi questo video con loro. Vieni a trovarci su iprestiti.online. Speriamo che queste informazioni ti siano state utili nella comprensione del funzionamento dei prestiti online. I nostri non sono consigli finanziari ma libere opinioni.